prima di tutto prima di tutti io perché dobbiamo già partire male perché prima di tutto buon ciao a tutti buongiorno e bentornati abbiamo saltato un paio di settimane si abbiamo avuto da fare dei problemi da riposare niente di preoccupante esatto ma ci siamo prima di tutto di nuovo buona settimana del pride buon mese del pride e vent'ora di sabato tu certo ok allora per cosa siamo qua cosa siamo qua fare oggi stupidaggini perfetto oggi così abbiamo deciso dopo tre anni di relazione di testare la nostra affinità e faremo il test d'amore cup of love che misura l'affinità di coppia farà la radiografia la vostra relazione che fai delle brevi quindi oggi questa puntata la passiamo così un po' leggeri ma non troppo perché se va male ti butto fuori di casa ah tu te pensa te pensa sai neanche come si chiama mia madre te pensa eccola sapevo che manda sapevo franca brava cioè non ci hai messo i soliti 14 minuti un applauso ma prima di tutto di nuovo sì cose a caso di cose a casa con alle fede allora è uno strumento che farà la radiografia la vostra relazione mostrandovi i punti deboli e le vostre risorse prima di iniziare ti chiediamo alcune informazioni per personalizzare il test io sono una donna che sta con una donna quindi vuol dire che una di noi lo deve fare questo test ok tu perché perché non ti ricordi neanche come si chiama mia madre parte 2 hai paura no mai allora ti posso dire che ci conosciamo da poco stiamo insieme da tanti anni ci stiamo per sposare siamo sposati siamo separati sono single e vuole fare lo stesso il test perfetto vabbè comunque la noia è la brutta bestia da combattere stiamo insieme da tanti anni 3 si può definire sì dai quest'anno 3 quest'anno 3 quando? il 18 di ottobre no il 17 esatto cogliona e siamo a 3 anni di fila ma iniziamo allora il test si basa su 12 semplici domande semplici domande è in grassetto quindi io voglio crederci che siano semplici secondo me sì alle quali ti chiediamo di rispondere distinto e senza pensarci troppo e già probabilmente non ci sarà sempre un'opzione per te azzeccata al 100% ma non importa scegli quella che si amicina di più ricordati che il risultato non è il verdetto di un severo giudice ma l'analisi macroscopica del modo di costruire e vivere la vostra relazione di coppia ricordate l'amica che poi ti senti giudicata è un casino partiamo partiamo se dovessi descrivere la tua compagnia a quale di questi profili senti che si avvicina di più le piace essere autonoma è sempre diretta la concretezza del suo forte ed è veloce nel prendere una no è un ottimista è un ottimista per natura solare e socievole no ma la deve finire tu sceglieresti questa per te perdonami è chiaro è un ottimista per natura esatto ottimista per non lo dici vedi le piace ascoltare gli altri per aiutarli è spontanea e brava nel riappacificare il clima di tensione cerca di essere franca come la tua mamma collaborativa agisce sempre valutando con attenzione la situazione e con molta calma quando prendo una decisione pondera sempre ogni singolo aspetto e dettaglio preferisce lavorare da sola con nessuno che la disturbi faccio le piace ascoltare gli altri per aiutarli la meno peggia dici tu è spontanea no le prime due proprio no vabbè comunque non è che mi devi descrivere così no vabbè non è che questa hai deciso di organizzare una festa per il tuo compleanno come riesci a gestire tutto quanto? ah io eh penso sei molto operativa ed organizzata valuti bene tanti dettagli ma decidi in maniera rapida e decisa organizzi tutto da solo e alla fine sei anche molto fiera di quello che sei riuscita a fare il tuo motto è la festa la fanno le persone inviti tutti quelli che conosci e cerchi una location che possa ospitarmi tutti ma soprattutto desideri che tutti stiano bene a loro agio questa non vuoi fare qualcosa di diverso e un po' stravagante per il compleanno organizzi un ritrovo e ti fai dare una mano dalla tua compagna dagli amici chiedendo loro che ognuno contribuisca portando qualcosa no organizzi tutto nei minimi dettagli ti sei già fatto una scaletta delle cose da fare come organizzare tutto al meglio senza che manchi nulla avvisi tutti molto tempo prima e chiedi una conferma una settimana prima in modo che ogni cosa sia perfetta e non la vado storta allora no in realtà organizzo tutto nei minimi dettagli ma se ne riguarda tipo una festa di compleanno neanche per i miei 30 sono stata così tu cosa sceglieresti su di me ma io ti dai la prima operativa organizzata valuti bene in dettaglio ma decidi in maniera rapida e decisa è tempo di fare un piccolissimo bilancio sulla festa è stata davvero una bellissima festa ma quale tra questi cinque momenti ipoteticamente accaduti ti ha fatto davvero sentire amata dai tuoi amici e dal tuo partner gli abbracci e le effusioni no i regali ah no? no i regali ricevuti beh super sia quelli di azzecati che tutti i pensieri nei dollari ricevuti è stato tutto molto bello e credo che la semplice presenza dei miei amici e le piccole attenzioni della tua compagna sia l'unica cosa di cui avessi bisogno e che ha reso la festa unica e indimenticabile no mi sono sentita amata soprattutto quando ho parlato con alcuni amici già capite che passa proprio la fantasia di essere carina, dolce ed amorevole con questa persona passa la fantasia ho potuto confidarmi con gli amici che la festa è stata bellissima ma a pensarci quelle chiacchiere con loro sono state le cose più preziose è stata una festa bellissima c'era una bellissima energia e senza l'aiuto concreto della mia compagna e dei miei più cari amici non ce l'avrei mai fatta devono volermi proprio bene eh sì allora io mi riferisco al mio trentesimo perché in realtà è l'ultima festa che ho fatto non ne faccio più e mi verrebbe da dire tutto molto no i legati ricevuti perché me l'avete regalato di sera si ho capito a quale fare la mia amica cioè così fai passare la fantasia a tutti non solo a me bisogna essere sinceri in questa cosa poi i miei amici io li ho sempre al mio fianco non è il mio compleanno che è un mio addio no te ho sempre al mio fianco fianco a fianco è una buona è una cattiva sorte è una salute della malattia però non mi vuoi sposare ah ok non ci separi i regali riguarda la tua relazione di coppia quale di queste affermazioni ritieni più vicina a voi? siamo molto felici e viviamo un periodo davvero di armonia e felicità in cui davvero tutto va a gonfie vele e ci sentiamo molto alleate siamo felici della nostra relazione nei nostri progetti sentiamo che facciamo passi avanti nel costruire il nostro rapporto spesso abbiamo la sensazione che stia crescendo i conflitti non mancano ma alla fine facciamo sempre pace e il nostro amore alla fine vince sempre ah no sorpresa è un periodo in cui nella coppia stiamo facendo fatica e riconosciamo che non c'è più quella gioia che un tempo abitava nella nostra casa c'è sempre qualcosa di pesante, ingombrante che ha la meglio e che porta di energia nella nostra famiglia e ci impedisce di sentirci amati come vorremmo anche se è dura da mettere siamo profondamente in crisi la nostra relazione sta soffrendo molto per cause esterne un tradimento delle priorità che ci dividono o interne perché abbiamo perso per qualche ragione la fiducia e la stima reciproca stiamo soffrendo molto e stiamo pensando se ci sia una via d'uscita che è questa qua no però io sceglierei la seconda se vuoi dirmi che sto sbagliando no no va bene va bene siamo molto felici della nostra relazione dei nostri progetti sentiamo che facciamo passiamo avanti nel costruire il nostro rapporto brick by brick mattone dopo mattone ok non l'avresti scelta? sì no assolutamente la prima era troppo romantica se dovessi dire quali tra questi momenti rendono la tua compagna davvero felice e quali non potrebbe mai rinunciare adesso dimmi se c'è un secco a quali sceglieresti? le coccole in tutte le forme baci carezze abbracci intimità fisica quando le faccio quando le faccio dei regali anche solo dei pensierini credo che la cosa che le fa più piacere sono le sorprese e passare un po' di tempo insieme questo lo facciamo sempre però non so se è proprio la cosa che rende la mia compagna davvero felice credo che non rinuncerebbe mai quando le sono vicine e la rassicuro le faccio capire che non è sola e che siamo sempre in due non rinuncerebbe mai all'aiuto al piccolo sostegno quotidiano che ci regaliamo gestire la quotidianità allora dai non prendiamoci pericolo le coccole in tutte le forme no in realtà no perché anche tu maccia anche a nera fastidio allora il piccolo sostegno quotidiano gestire la quotidianità da soli è davvero difficile ma aiutandosi a vicende è tutto più semplice vedo che si sente davvero amata quando l'aiuto vai a cena dai genitori della tua compagna non trovando nessuna scusa per non andare e sua madre cercando il nome di mia madre sul citofono perché non se lo ricorda come gestite il tempo e gli impegni in comune? passiamo tutto il tempo che possiamo insieme passiamo molto tempo insieme ma siamo anche molto autonome vorremmo passare tutto il tempo insieme ma per diverse dinamiche siamo costrette ad accontentarci siamo molto autonome indipendenti e la seconda se non è passiamo molto tempo insieme ma siamo anche molto autonome anche perché ci vediamo circa 45 minuti a settimana 40 dei quali li passiamo qui davanti quindi 5 minuti che ci restano più o meno totale è un po' di tempo che la tua compagna è in crisi gioia e vorrebbe fare una vacanza in solitudine lontano da tutti tu come ti comporti? buon viaggio mi sento in difficoltà no credo che il suo bene sia il nostro bene sono in profondo disaccordo con questa scelta no credo di capire come si sente cercherò un modo di proporle di andare insieme no se vuole fare una vacanza in solitudine credo che il suo bene sia il nostro bene un po' viaggio quali sono i vostri progetti e sogni nel cassetto? sogni cassetti non mi riposo per me nell'oscars in realtà viviamo la giornata non c'è molto spazio per fare troppi programmi vorremmo allargare la nostra famiglia la nostra relazione alti e bassi non c'è possibile fare progetti al momento siamo entrambi molto impegnati nella carriera non ne sceglierei neanche una eh no nemmeno io eh faccio la carriera che carriera? eh lo so però scusa non abbiamo spazio per fare troppi programmi preferisci? no 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 vogliamo allargare la famiglia è una bugia? assolutamente sì eh per forza l'ultimo come reputi che nella coppia si viene a gestire il denaro ognuno contribuisce lavorando ci occupiamo entrambi nelle spese comuni della nostra famiglia uno di noi due gestisce nello specifico le nostre finanze mettiamo tutti i soldi che guadagniamo in un unico conto no ognuno contribuisce lavorando occupiamo entrambi delle spese assolutamente quali secondo voi sono i valori più importanti? fedeltà fiducia stabilità apertura libertà semplicità solidità squadra alleanza pazienza comprensione empatia al tre rispondiamo tutte al tre rispondiamo no aspetta le voglio rileggere pronta al tre uno due tre la seconda apertura libertà semplicità quando c'è un conflitto nella vostra relazione come vi comportate? allora tendenzialmente vi dirò in realtà non litighiamo mai c'è sempre molta armonia discutiamo animatamente per giorni fino allo sfinimento ci avviciniamo molto a questa cosa tu da sola ci teniamo il muso e stiamo a lungo in silenzio litighiamo e ci diciamo quello che dobbiamo dire e poi dopo un po' di tempo da sola ci riparcifichiamo e ci chiediamo scusa allora dipende dalla discussione tutte no aspetta ma anche in realtà non litighiamo mai secondo me un po' tutte nel senso che litighiamo poco ogni tanto ci teniamo il muso per giorni ogni tanto litighiamo malissimo altre volte ci diciamo le cose e poi finisce lì allora facciamo l'ultimo dai litighiamo e ci diciamo tutto quello che abbiamo da dire dopo un po' di tempo ci riparcifichiamo e ci chiediamo scusa secondo me quella che succede più spesso sì potrebbe essere quella quando è che vi sentite profondamente in armonia con il vostro essere coppia quando parliamo quando facciamo l'amore quando viviamo un momento di meditazione la seconda zona escluderei se non è come scrive quando viviamo un momento di meditazione del tempo in silenzio in preghiera insieme secondo me è quella in tutti e tre i casi precedenti in nessuno dei tre casi descritti allora farli tutti e tre includerebbe la meditazione la preghiera e che no io farei dimmelo tu vai no lo stai facendo tu voglio sapere cosa pensi no lo stai facendo tu non è giusto voglio sapere anche cosa pensi tu perché quando è che vi sentite profondamente in armonia quando parliamo anch'io brava brava grazie ti ringrazio hai completato il test che culo no vabbè ti manderemo il test di Neil il risultato ma che risultato è poi in base a queste domande cos'è che mi dice sto Alberto qua perfetto abbiamo appena sprecato venti minuti della nostra esistenza lo decidiamo noi il risultato è inutile perfetto buttatelo via venti minuti della nostra esistenza non che avessimo e della loro esistenza ci dispiace però io dico che questo test ti do un certo punto perché comunque sono simpatiche cioè questo test sarà anche stato inutile sì ma abbiamo capito cosa che siamo sulla stessa lunghezza d'onda perché negli ultimi tre anni non ti era chiaro no c'è questo questo è un'intimità ok siamo forti insieme forti da sole ma anche fortissime e niente mi dispiace sono un po' delusa da questa cosa anch'io dobbiamo fare ecco settimana prossima facciamo appuntamento con la te del passato ok va bene ok ci pensi questa settimana allora ma eccoci arrivati all'appuntamento scienza sì della puntata perché siamo leggerezza siamo simpatia ma siamo anche informazione conoscenza conoscenza e abbiamo messo un tono in modo tale che entri la terza affermazione lo so infatti scelta è andata dai via perfetto quindi è il momento della curiosità finale nell'antica Roma i peli pubici venivano depilati con una crema contenente resina vele di capra veleno di vipera e sangue di pipistrello nell'antica Roma la mancanza di peli pubici era il segno distintivo dell'alta borghesia niente è stata una puntata un po' così ma noi ce la faremo andare bene lo stesso eh per forza e niente di nuovo ci vediamo la settimana del pride ci vediamo al pride mi raccomando cercate di esserci il caldo non è una scusa però voglio dire così mi prendo due secondi prego prego ok se vuoi questa cosa che sembra ultimamente che dobbiamo qualcosa proprio che noi dobbiamo qualcosa nella comunità lgbtq è anche sbagliata ci sta che uno magari non abbia il coraggio o la forza di prendere e venire al pride non è un obbligo assolutamente ma se potete e volete farlo non fatevi fermare dal caldo dal fatto che ci sia troppa gente dal fatto che magari pensate che non si concluda niente perché ha visto la situazione in cui siamo tanto del venire da soli perché qualcuno si trova sempre nella situazione in cui siamo col governo che abbiamo e con le cose che stanno succedendo è essenziale esserci è essenziale ma non voglio che passi obbligatorio esatto non lo dobbiamo a nessuno se non magari a noi stessi concederci la possibilità di ottenere qualcosa prima o poi giusto? assolutamente non è che se non vai al pride sei un cattivo membro della comunità no assolutamente non è così ma diciamo che serve soprattutto ora assolutamente perfetto non è essenziale è necessario esatto è necessario poi ognuno decide per sé in base a tanti fattori esatto abbiamo fatto anche un po' di responsabilizzazione esatto e come dico sempre fate l'insicurezza perfetto sempre quando? vabbè fate l'insicurezza va bene ci sta venite al pride in insicurezza con dell'acqua esatto un ventaglio e la crema solare quella per forza se volete ci vediamo ci vediamo noi ci saremo va bene ci vediamo la settimana prossima speriamo ci proviamo ciao amici ciao 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 ciao